La Villa Cidrese ha superato la Tardos 2-0, gol di Luca Muscas e Riduan Palermo, quinto gol per il centravanti argentino nelle ultime tre partite. Ecco, la terza vittoria consecutiva si è isolata al terzo posto in classifica con 15 punti, alle spalle della capolista Budoni, che è a 18, e del sassa di calcio Latte Dolce, 16, entrambe non in campo ieri. La prima per il rinvio della partita di Nuoro, a seguito della prematura scomparsa del suo presidente Salvatore Marroni, la seconda perché chiamata al suo turno di riposo. La squadra di Graziano Mannu ha superato la fase negativa, che era coincisa con le sconfitte subite con il Carmonia in casa e in trasferta a Iglesias, ed ha ripreso confidenza con i gol e le vittorie, 5 nelle prime sette giornate. E' finito in parità l'altro match tanto atteso della settima giornata tra Ferrini e Lanusei, 1-1. Squadra Ogliastrina in vantaggio, con un gol di Marcos Mainardi, pari della Ferrini, con il bomber Lorenzo Camba. Illi punti ha interrotto la striscia vincente dell'Iglesias, fermatasi a tre vittorie consecutive, imponendo il pari 2-2 alla squadra di Alessandro Cuccu. Vantaggio iniziale sassarese con Naccio Centeno, riaggancio e sorpasso dell'Iglesias con i gol di Angelo Marci e Yves Herman Coadio e pari finale di Roberto Manca per Illi punti. L'ossese ha battuto di misura il Carmonia con un gol realizzato al sedicesimo da Alessio Virdis, tornato dopo una brevissima esperienza all'Iglesias. Il Carmonia ha giocato privo degli squalificati Gesù Sprieto e Nicola Serra e Di Gabriele Dore, senza peraltro Diego Mingioni in panchina, squalificato come il collega dell'ossese Gian Piero Loriga. E' rientrato dopo alcune settimane di assenza per infortunio Andrea Mastino, che è tornata a far coppia con il fratello Fabio. Con i tre punti conquistati l'ossese sale a quota 10 punti, il Carmonia resta fermo a 7. Il Bosa ha battuto nettamente il Taroro Gavoi 3-1 e la fianca in classifica insieme ad Ossese e Ghirazza, quest'ultima ieri bloccata sull'1-1 casalingo dal Sant'Elena. E' finita 1-1 anche tra Calangianus ed Arbus, che restano appagliati in classifica ora con 7 punti. Santi Odoro Portorotondo infine Corsaro a Monastir 3-2 con gol partita allo scadere di Alessio Mulas. Il Santi Odoro Portorotondo sale a quota 8 punti, la Cosmoto Monastir resta ferma all'ultimo posto con un punto, in compagnia della Nurese, che ieri non ha giocato per il rinvio della partita interna che avrebbe dovuto disputare con la capolista Budone.